La vicinanza della consigliera a questa, però mi chiedeva molto opportuno anche l'intervento del segretario appunto di fare una notazione più accurata ovviamente di quello che già ci chiamiamo appunto a votare e quindi è più giusto a questo punto ritornare nella condizione competente e appunto per cercare di risolvere appunto questa questione che si è una proposta da parte del Consigliere Cortese, c'è una proposta da parte del Consigliere e sentite come abbiamo una serie di consiglieri con un primo saluto degli anni, l'altro, Pagluga e altri, di vengare il capo a tutti i giorni dell'avunzione competente per un non un peggior approfondimento. Allora, prego il Consigliere Cortese. Grazie. Grazie. Grazie a Consigliere Cortese. Allora, prego il Consigliere Cortese. Allora, prego il Consigliere Cortese. Consigliere Cortese. Consigliere Cortese. Consigliere Cortese. Consigliere Cortese. Allora, caro Gianluca, visto che sei stato già difettoso in questo, che noi facevamo presente che venivamo in commissione perché in direzione civica regionale non era disponibile tutto era negatutto, per cui nel frattempo che aspettavamo la risposta sulla illegittimità e sulla disegittimità delle commissioni stavamo venendo per cominciare a collaborare. Tu facessi notare che l'opposizione stava venendo in commissione in maniera molto scorretta, quindi vi invito a riformulare la domanda, a riformulare la proposta, invece di portarla in commissione dove non interveneremo, che sono io in commissione e c'è la Vignani, che non interveneremo in commissione, quindi probabilmente non riuscirete a cambiarla con la proposta e con l'affetto di tutti. Quindi portarla in commissione capiluppo dove sicuramente verrà approvata perché siamo tutti disponibili da approvare. Allora, grazie al Presidente Salva. Allora, la Presidente Raffiutalo. A questo punto… Allora passiamo al capo 6, proposta al Consiglio Comunale. La risposta prego. Scusa, adesso abbiamo aperto la parte. Non ho un'idea che ci stiamo facendo, ci posso dire che abbiamo aperto. Sono state scopriate, le azioni che ci sono, è stata data una nuova discussione. Allora, ecco, la risposta di oggi non c'entra con le commissioni, è una problematica che riguarda il gesto. La commissione è un altro discorso. E' perdono, cos'è? Allora, davanti ci vediamo. E' no. E' no. Io ho chiesto all'assessore alle varie culturali, finalmente, o qua, giustamente, come mai, come giustifica, le commissioni non ci siamo. In genere è rispettato. Escusa. Allora. La commissione... Ma è possibile che questi assessori mi hanno adottato la risposta? No, ma è scontata la risposta. No, a te scontata. No, a te scontata. No, a te scontata. No, a te scontata. No, a te scontata, ma mi può rispondere. C'è un telefono. Prego, assessor. Non c'è un telefono. No, a te scontate. Per me non c'è un telefono, che ha un telefono. Allora, consigliano da me. Eh, scusami. Mi deve dire qui. Ma la licita solo che non mi fa... Ma non c'è da solo te che non mi fa... No, mi devi dire qui. No, ma non c'è un telefono. se me lo consente se non me lo consente ormai la platea è quasi vuota siamo tra più o meno la sua fila stiamo cercando appunto di promuovere e di aiutare la partecipazione in ambito di sezio ovvia e per il conto anche di quelle che ci sono le candida 2 che sono la parte proposta da parte delle donne quindi il rettico di camera a sessione ma lei non è che ci deve lavorare dopo per farlo lei ci deve lavorare prima a favorire tutte le condizioni o qualora non ci fossero le candida 2 lei deve porre questo significa fare pariocontunità porre tutte le condizioni affinché non ci si ritrovi e la condizione di non avere le candida 2 questa è la pariocontunità perché se lei risponde così vuol dire che allora è giustificato il fatto che non ci sia un metro e quindi è una cosa scioglienza si lavora prima non si lavora dopo io non lo sento e poi io non credo poi io non credo che non ci siano cani da capire le seguite le attività è proprio nel caso della... posso volerlo? proprio? considerate Marco considerate lei ha detto istranale risposte ha dato la risposta ha uscerto la risposta allora un attimo credo che la risposta si vedece stavano te no vogliamo la garanzia no abbiamo problemi non voglio la registrazione sono molto dai qui troppo un paro 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 un attimo la parola la parola